Finalmente la Roma è tornata, lo possiamo dire? Ma io voglio dire che ho rivisto la Roma, non dico altro, sicuramente sarà una cosa più difficile a Torino, andremo a giocare come sappiamo, con il suonito di squadra, con i grandi giocatori, con questo qualsiasi andremo a giocare con tutte le nostre forze. Io sono sempre stata molto serena e molto feliciosa in questo gruppo, per cui insomma sono contenta però per i difusi, perché giusto tornare a sorridere. Sono felice per il lavoro che si fa nel settore giovanile, bravissimo Bruno Conti, per cui sono molto contenta, abbiamo tantissimi bravi ragazzi che sono in giro per l'Italia, e tanti che dice Bruno stanno giocando nel nostro settore giovanile, per cui sono molto soddisfatta, perché diamo grande importanza al vivaio e Greco è l'ennesima dimostrazione di tutto questo. Io penso che bisogna arrivare qui in realtà, noi dobbiamo dramatizzare il popolo in 20 ore, non dobbiamo saltarci, dobbiamo fare il nostro lavoro, perché se lo facciamo l'abbiamo fatto negli altri anni, possiamo arrivare qui.